Sono 84 le organizzazioni del commercio equo e solidale nel nostro paese e sviluppano un fatturato di circa 80 milioni di euro all'anno. 33 mila sono i soci e oltre 5 mila i volontari. Anche se la crisi ha rallentato le vendite di questi beni, il commercio equo e solidale resta una realtà importante soprattutto a Milano e in Lombardia. Nello scorso mese di aprile la regione ha approvato una legge di sostegno a questo tipo di attività. Dal 23 al 31 maggio a Milano si terrà la settimana mondiale equa e solidale con l'arrivo di rappresentanti di 55 paesi del mondo. Il commercio equo e solidale promuove giustizia sociale ed economia, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente. È una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita di produttori, aumentando nell'accesso al mercato, pagando un prezzo migliore e assicurando continuità nelle relazioni commerciali. Oggi peraltro c'è una maggiore attenzione da parte dei consumatori e quelli milanesi sono particolarmente attenti ai temi della sostenibilità e dell'origine della produzione dei prodotti che si consumano. Quindi un mercato su questi aspetti si sta allargando. Tutto ruota attorno alla conferenza mondiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Equo e Solidale che si tiene all'Hotel Clima. Saranno 4 giorni di workshop e di lavoro con 221 delegati da 55 paesi e 5 continenti, un evento mai visto. E poi la grande fiera del commercio equo, la più grande fiera del commercio custodale mai realizzata che si tiene alla fabbrica del vapore. Dal 28 al 31 maggio con ingresso libero ci saranno 170 espositori. La crisi la sentiamo da qualche anno però stiamo reagendo. A Milano ci sono 10 botteghe del commercio equo, abbastanza consolidate ma siamo in continua evoluzione con idee nuove e anche questa città che cambia necessita anche una strategia di cambiamento da parte nostra quindi stiamo anche riposizionando i negozi. Grazie. 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 Grazie.